Terracina botte dal marito, salvata dalla folla, la donna è scappata in strada insanguinata. Roma, poliziotto uccisa, l'omicida. Era un suo collega che si è tolto la vita con la stessa arma. Cassino, picchiata prima di essere accoltellata, è uccisa. Fermato un giovane. Sono gli ultimissimi titoli di cronaca di un fenomeno, la violenza maschile sulle donne, che riguarda ciascuno di noi. Il fenomeno della violenza sulle donne è un fenomeno culturale ma anche sociale ed è un gravissimo fenomeno che ci riguarda da vicino. Noi non possiamo pensare che la violenza contro le donne sia un fatto privato chiuso all'interno delle mura domestiche. Assolutamente no. Bisogna riconoscere la violenza al suo sorgere, parlare, chiedere aiuto, fermare la spirale, denunciare, far emergere tutto il sommerso. Noi facciamo repressione, e tanta, ma la vera chiave è la prevenzione. Noi dobbiamo partire dall'idea che bisogna segnalare che il sommerso deve in qualche modo emergere. Perché quando emerge e lavoriamo su un omicidio o su un grave maltrattamento è già troppo tardi. Nessuno deve voltarsi dall'altra parte. Abbiamo avuto anche un caso recentemente di una donna ucraina che è stata soccorsa da un passante mentre l'ex compagno, che non si arrendeva al fatto di interrompere la relazione, tentava di bruciarla. La violenza sulle donne interroga prima di tutto gli uomini e la loro difficoltà ad accettare la libertà delle donne. Quando una storia finisce, finisce. E l'uomo se ne deve fare una ragione.